Quali sono i meccanismi della dipendenza affettiva? La dipendenza affettiva nasce dal voler cercare al di fuori di noi stessi la stima, l'attenzione e l'amore che non abbiamo percepito quando eravamo bambini. E allora la responsabilità non è tanto del partner, ma diventa nostra fin quando non decidiamo di prendere in mano le redini della nostra vita. Chiariamo subito che la dipendenza affettiva nasce nel rapporto che viene instaurato da bambini con i propri genitori. Probabilmente i genitori hanno lasciato insoddisfatti i bisogni infantili di amore, di stima, di ambirazione. Ora, la frustrazione di questi bisogni fondamentali porta il bambino a pensieri del tipo i miei bisogni non hanno importanza. Oppure, ancora peggio, io non sono degno di essere voluto bene. Perciò da adulti questi bambini non amati finiranno per dipendere dagli altri per quanto concerne il proprio benessere psicofisico. Ma vivono nella paura di essere rifiutati, in quanto non hanno fiducia in se stessi, giudicandosi persone non degne d'amore. Perciò vivono nel timore costante della disapprovazione e dell'abbandono. Le persone dipendenti hanno una carenza di autostima per cui fanno dipendere il proprio valore dagli altri, non credendo di meritare di essere amate per come sono. Ciò vale in qualsiasi campo della vita, non solo negli affetti, ma anche in famiglia, anche in abito lavorativo. Quando si pensa che il proprio benessere dipenda da un altro, si finisce col mettere la propria vita nelle mani di questo altro e si accetta che costui faccia di tutto dicendo di sì a qualsiasi compromesso pur di avere la sua approvazione. In pratica si è disposti persino a calpestare la propria dignità, non riuscendo a mettere limiti a quanto si è disposti a subire. In altre parole, il dipendente affettivo cerca di ottenere affetto annullandosi come persona, rendendosi schiava del partner e piegandosi alla sua volontà. Queste persone sono dominate da una fame interiore insaziabile, ma questa fame è soprattutto insopportabile. Si tratta di una fame di sicurezza, cioè di conferma del proprio valore, e quindi di riconoscimento. La dipendenza affettiva inizia dove finisce la capacità di vivere una relazione all'insegna della libertà e della spontaneità. Quando la persona non è più libera di essere, ma è costretta ad assumere un ruolo, l'amore diventa compensazione di qualcosa che riempie i nostri vuoti, diventa qualcosa che ha lo scopo di controllare le nostre paure. Perciò in questa situazione il rapporto non diventa più un incontro tra due persone, ma soltanto un'autolimitazione. La limitazione che si autoinfligge il dipendente affettivo consiste nel disconoscere i propri bisogni emotivi. Il ragionamento è questo. Se mi comporto come io vorrei che tu ti comportassi, tu ti comporterai come voglio io. Così da non deludere la mia aspettativa. Ecco lo schema disfunzionale. Uno schema disfunzionale che ha alla base una speranza inconscia di questo tipo. Il dipendente affettivo cerca attraverso la relazione simbiotica con il partner di trasformare un genitore frustrante in una creatura amorevole. Dietro questo meccanismo inconscio c'è una promessa di riparazione, per cui la scelta del partner non può essere casuale, ma avrebbe il significato simbolico di cancellare le ubigliazioni subite nell'infanzia. Per fare questo il dipendente affettivo mira a possedere l'altro. Ma come ci insegnano i poeti, amare una persona non significa possederla, significa invece dare il meglio di sé senza pensare di ricevere. Amare significa voler stare spesso con l'altro, ma senza essere mossi dal bisogno di alleviare la propria solitudine. Amare significa aiutare, ma senza aspettarsi gratitudine. Ecco che possiamo dire che amare significa essere legati a qualcuno, ma mantenendo la propria libertà. Va bene essere un tutt'uno con l'altro, ma rimanendo se stessi. Se così non è, l'amore si trasforma in una ossessione che domina la mente. Non a caso il primo sintomo della dipendenza affettiva è il desiderio di fusione con l'altro, che genera l'ansia di poterlo perdere e quindi il bisogno di contivera assicurazione. Questo significa che il dipendente affettivo ha difficoltà nell'identificare in modo consapevole i propri bisogni. in sostanza non sa chi è e non sa cosa vuole. Una particolare forma di dipendenza affettiva è la codipendenza, che nasce dalla mancata percezione dei confini tra sé e l'altro e il bisogno di protezione, aggravato da una scarsa autostima. In psicoterapia è necessario capire quali siano le ragioni sottostanti alla dipendenza affettiva e bisogna inquadrarle all'interno di un profilo personologico specifico. A volte, in alcuni casi, i genitori di questi adulti dipendenti sono stati iperprotettivi e quindi limitanti. In pratica hanno limitato il bisogno di gioco e di spontaneità nel bambino. oppure si sostituivano i figli nelle scelte o, contrariamente, possono essere stati i genitori lassivi, senza limiti. Ecco perché è importante capire che ogni caso è unico, perché esiste una stretta connessione tra la tipologia di attaccamento e la personalità. Coloro che soffrono di disagi connessi alla sfera della dipendenza affettiva generalmente presentano uno stile di attaccamento insicuro, di tipo dipendente, oppure uno stile evitante, oppure disorganizzato. Poi c'è da aggiungere che la dipendenza affettiva spesso non è un fenomeno che riguarda una sola persona, ma è una dinamica due. A volte il partner del dipendente affettivo è un soggetto problematico, per esempio è un narcisista. Altre volte la persona amata è rifiutante, è sfuggente o è irraggiungibile e questo rende tutto molto più complesso. Un percorso di psicoterapia può aiutare la persona a superare le condizioni di sofferenza legate alla dipendenza, ma il trattamento mira soprattutto a modificare i legami di attaccamento insicuro per poi rielaborare le esperienze negative e permettere l'instaurarsi di legami significativi più soddisfacenti. Poi si punta a sviluppare l'assertività in modo che il dipendente affettivo possa manifestare i propri bisogni senza il timore di essere abbandonato. questo implica una buona autostima e anche la sicurezza in se stessi. Per uscire dalla dipendenza affettiva il primo passo è la consapevolezza del proprio funzionamento psichico. Alla fine la possibilità di amare veramente l'altro dipende dalla capacità dei membri della coppia di percepirsi come individui separati rispettandosi reciprocamente e riconoscendo l'altro nella sua diversità senza per questo perdere di vista la propria individualità. Bene io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche per cui se volete richiedermi una consulenza dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando il vostro nome cognome e i vostri orari preferiti. Potete anche visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. Vi ricordo infine che ho pubblicato quattro libri che troverete soltanto su amazon sia in versione cartacea che in versione ebook ebook al lupo.